E dunque, il nostro argomento è stato già annunciato e forse possiamo già far apparire un'immagine dalla quale partiamo, è un po' buffa, ed è Napoleone III, impettito, indivisa, parleremo di lui in quanto è all'origine di tutta questa vicenda, la vicenda della comune parigina, la commune, per l'esattezza, come gli storici che se ne occupano sempre precisano, la comune del 1871. Perché? Perché commune, la comune, vuol dire la municipalità, la municipalità di Parigi. E la municipalità di Parigi è stata protagonista nel tempo di altre vicende politiche importanti, si cita giustamente come antecedente memorabile la comune del 1792, cioè la municipalità di Parigi che raccoglie le varie sezioni durante gli anni della rivoluzione, ed è quella sotto il cui impulso viene arrestato il re Luigi XVI il 10 agosto del 1792 e tante altre vicende, quindi la comune del 1871. La peculiarità della vicenda della quale parleremo è la sua brevità, in sostanza l'esperienza di governo, o meglio di autogoverno, della commune è durata poco più di due mesi, dal 18 di marzo, o meglio dal 26 di marzo, vedremo perché, al 28 maggio del 1871. Quindi un governo brevissimo, stroncato in modo feroce, che si verifica per iniziativa popolare in un momento tragico, in un momento assolutamente drammatico, è quello appunto della sconfitta militare, di cui il terzo Bonaparte è vero responsabile. Allora, il punto di partenza è il secondo impero, il secondo impero, sorto con il colpo di stato di Bonaparte, del principe Luigi Bonaparte, il 2 dicembre 1851, il principe presidente, perché egli è stato eletto a suffragio universale, ha trionfato nelle elezioni plebiscitarie quasi in suo favore, e dopo breve tempo ha assunto invece il titolo imperiale, i poteri che vanno al di là di quelli, diciamo così, costituzionali, elettivi. La politica estera del terzo Bonaparte è una politica ben presto interventista, imperialistica, e sappiamo che il suo ruolo nella storia d'Italia è un ruolo ambiguo, da una parte già quando favorisce la fine schiaccia la Repubblica Romana di Mazzini, 1849, non è ancora l'imperatore, ancora un politico importante, dopo dieci anni quasi, con la collaborazione del conte di Cavour, interviene in un conflitto che noi italiani chiamiamo seconda guerra d'indipendenza, ma in realtà è la guerra tra la Francia e l'impero d'Austria, che si combatte sul territorio italiano e che favorisce la politica del Regno di Sardegna, quindi ha un posto anche pagato duramente, nelle battaglie di Solferino e San Martino, i francesi morti sono stati tantissimi, ma è anche il protettore del Regno dello Stato della Chiesa, quindi l'artefice della sconfitta di Garibaldi nel 1867 per impedire che Garibaldi liberasse Roma dal potere temporale dei papi, ma accanto a questo c'è una politica di largo respiro, l'intervento nel Messico e il conflitto crescente che diventa guerra, a suo giudizio sarebbe stata una guerra lampo con il Regno di Prussia, il cui genio politico è il principe di Bismarck, che forse vedremo ora nell'immagine successiva, eccolo con l'elmo, in divisa in alta uniforme di corazziere, di alta uniforme, egli era un politico ma era anche un uomo che si cimentava sul terreno tattico, strategico. La guerra alla leggera è provocata, sappiamo la storia del famoso dispaccio di Ems, falsificato, ritoccato, che diventa Casus Belli, ma non è una guerra lampo, le truppe francesi partono al grido di a Berlino, pensando di arrivare in una passeggiata, il terzo Napoleone non aveva la dote militare del suo illustre zio e invece si risolve rapidamente in un disastro la battaglia di Sedan e la battaglia nella quale addirittura Napoleone III viene preso prigioniero e tre giorni dopo, il 4 di settembre del 1870, un'insurrezione popolare proclama la Repubblica. Ma prima di addentrarci nella vicenda e nelle sue implicazioni che sono molteplici, forse un cenno va fatto al tipo di regime instaurato con il terzo Bonaparte, con il terzo Napoleone. Lo sintetizzerei, riprendendo qualche frase, da uno scritto sul quale poi torneremo, credo, verso la fine del nostro incontro. È uno scritto di Marx intitolato La guerra civile in Francia, pubblicato a caldo, potremmo dire, a nome dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, la cosiddetta prima internazionale nata nel 1864. Marx è uno dei leader più importanti, direi anche l'anima di questa associazione, il cui motto è lavoratori di tutto il mondo, unitevi, cioè l'ultima frase del manifesto di Marx e di Engels del 1848. Questo scritto, La guerra civile in Francia, ha un grande rilievo per varie ragioni, le diremo meglio al termine, ma già qui è interessante constatare che non è soltanto un intervento contingente, contiene, sono quasi una cinquantina di pagine a stampa, contiene, tra l'altro, una analisi politica del secondo impero, che è un fenomeno, fra l'altro è durato molto, è durato vent'anni, è durato a rigore ben più del primo impero, del primo Bonaparte, ed è un esperimento interclassista, come Marx ben scrive in queste righe, dalle quali citerò qualche frase, laddove dice l'impero con il colpo di stato come certificato di nascita, il suffragio universale come sanzione. Il suffragio universale è soltanto maschile, come fino all'inizio del Novecento è stato, è lo strumento che porta il principe Luigi Bonaparte al potere. Questo non va dimenticato, perciò scrive il suffragio universale per sanzione, la spada come scettro, pretendeva di poggiarsi sui contadini, cioè sulla grande massa di produttori non direttamente impegnati nello scontro tra capitale e lavoro. Cercava di catturare il consenso dei ceti operai, colpendo, dice Marx, il parlamentarismo, cioè la cricca parlamentare di notabili sostanzialmente, il cui potere l'impero via via riduce. E, tralascio altri dettagli che pure meriterebbero, in realtà, lui scrive, era l'unica forma di governo possibile, durata per vent'anni, in un periodo in cui la borghesia aveva già perso la facoltà di governare la nazione, ma il proletariato non l'aveva ancora acquistata. Quindi già in questo scritto anticipa una diagnosi del fenomeno del buonapartismo, diciamo in parallelo con quello che sta facendo Teodor Momsen come storico studiando il cesarismo, cioè la via d'uscita intermedia, interclassista, in un momento in cui nessuno dei contendenti dei ceti sociali in lotta è in grado di prevalere, che è un fenomeno che si ripete nel tempo e di cui anche il nostro Paese ha avuto reiterate esperienze. Ma siamo, come ho detto, al momento della crisi rapidissima, una guerra lampo, potremmo dire, ma non da parte francese, bensì da parte prussiana, una guerra lampo che è un campanello d'allarme, potremmo dire, per il movimento dei lavoratori, ma anche in generale per il movimento democratico, che percepisce l'importanza di coniugare, di cogliere l'occasione, potremmo dire, dei conflitti interstatali, interimperialistici, in questo caso si può senz'altro dire, per inserirsi con un moto liberatore. Potremmo dire già al quanto tempo prima, al tempo della guerra di Crimea, Mazzini, esule a Londra da un bel po', 1854 pubblica un intervento su un giornale inglese repubblicano, quindi un giornale minoritario assolutamente marginale, un intervento in cui dice, brevemente, lo riassumo, se i popoli non si svegliano ora che le grandi potenze sono in lotta tra loro, non sono degni della libertà, cioè l'intuizione mazziniana è la coniugazione guerra-rivoluzione. Nel 70 la questione si ripropone in modo ancora più netto, se vogliamo, e esiste ormai da sei anni, dal 1864, una organizzazione internazionale che raccoglie i vari movimenti, molto variegata, potremmo dire che a un certo momento anche Mazzini è stato interessato, ma poi si è ritratto, ma gli anarchici sono presenti in modo molto significativo, Bakunin è uno dei dirigenti, anche se in continuo contrasto, polemiche, eccetera, con Marx e poi ci sono i socialisti di altra ispirazione, che avranno un ruolo importantissimo nella Comune. In Germania c'è un partito socialdemocratico molto consolidato, sostanzialmente dovuto all'opera di Ferdinando Lassalle, che manda, trasmette proclami di solidarietà nei quali si afferma, ovviamente in modo ingenuo e operativamente poco efficace, la solidarietà dei lavoratori tedeschi con quelli francesi e viceversa, mentre i capi, gli statisti, hanno dato vita al conflitto, alla guerra. Cioè c'è un tentativo di fermare la guerra attraverso l'azione degli operai organizzati, che naturalmente purtroppo non accade, la guerra si svolge, però questa sensibilità per la contrapposizione tra l'internazionalismo dei lavoratori organizzati in questa grande associazione, molto temuta peraltro, e l'azione concreta poi dei governi è un tratto caratteristico che si riprodurrà dopo i famosi 40 e passa anni di pace della Belle Epoque, nel 1914, allorché da capo di fronte alle scelte di conflitto interimperialistico, la cosiddetta prima guerra mondiale, ogni Stato poi ne ha dato una versione patriottica più o meno credibile rispetto a quella scelta omicida delle grandi potenze, tutte, non soltanto degli imperi centrali, c'è un tentativo della seconda internazionale nata al termine, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, di fermare questo massacro, ancora una volta purtroppo fallendo nell'obiettivo. e in realtà il fatto che la guerra possa suscitare, sia per suscitare, un moto rivoluzionario all'interno della Francia è percepito con acume, con lungimiranza, dallo stesso Marx nella sua corrispondenza privata, quando teme, in certo senso, che accada questo, in quanto non c'è stata, non c'è una preparazione adeguata ad una presa del potere. Le lettere sue sono in larga misura conservate, pubblicate, quindi si può seguire già dall'agosto, quindi prima della vera e propria sconfitta francese, l'allarme che egli esprime, scrivendo a Engels intorno a uno sviluppo che ritiene, come è giusto poi confermato dai fatti, inevitabile. E la vicenda, possiamo forse guardare ancora un'immagine, la successiva, quella di un signore piuttosto simpatico, Leon Gambetta, perché la voglio qui additare alla vostra attenzione? Perché nella Parigi, in sorta che proclama la Repubblica l'imperatore prigioniero dei prussiani, c'è una difficoltà fattuale molto forte, cioè la città è assediata dall'esercito prussiano vincitore. E da questa città, nella quale è difficile insaurare il governo repubblicano, alcuni leader fuggono in pallone aerostatico, Gambetta è noto appunto per questa fuga da Parigi piuttosto rocambolesca, perché tentano di formare un governo altrove, a Bordeaux, più defilata rispetto alla zona, fra l'altro Parigi è una capitale vicinissima al confine, quindi è molto vulnerabile. Questo tentativo di creare una parvenza di governo dovrebbe comportare anche la prosecuzione della guerra contro la Prussia. Se ben ci pensiamo, è una situazione che rassomiglia molto alla situazione del 1940, ma ovviamente con protagonisti e esiti abbastanza differenti. Le date essenziali di questa vicenda è giusto passarle in rassegna prima di entrare nel merito, diciamo, del governo della Comune. Abbiamo già detto il primo settembre, il 4 settembre, la fuga di Gambetta, di Favre, di Thierre, Thierre poi avrà un ruolo direttivo, porterà il governo provvisorio della neonata repubblica, sostanzialmente col permesso dei prussiani, a Versailles, cioè fuori, a breve distanza da Parigi, e il conflitto, la guerra civile sarà tra Versailles e Parigi, per l'appunto. Gli eventi si susseguono abbastanza precipitosamente, il principe Ottone di Bismarck, quell'uomo che abbiamo visto piuttosto pericoloso, minaccioso, ottiene un successo straordinario che ne ha fatto poi il grande statista tedesco per eccellenza, e cioè il 18 di gennaio del 1871, mentre continua l'assedio di Parigi, proclama Guglielmo, re di Prussia, imperatore di Germania. Quindi l'impero tedesco risorge a Versailles, nella reggia di Versailles, operazione anche spettacolare se vogliamo, allusiva al fatto che lì si è fatto incoronare Napoleone I, peraltro. Ed è uno schiaffo anche propagandistico fortissimo alla Francia in ginocchio. Compiuta questa operazione il 18 di gennaio, Bismarck torna a Berlino, ma la città di Parigi è sotto la pressione delle truppe assedianti. Pochi giorni dopo, il 22 di gennaio, c'è una battaglia molto marginale rispetto all'andamento della guerra, guerra che ormai è quasi conclusa, nel senso che Parigi è assediata, l'impero tedesco è stato proclamato a Versailles, il governo francese è fuggito, Bismarck è tornato a Berlino. Ma a Digione ci sono delle truppe prussiane affrontate da Garibaldi, il quale è accorso in difesa della neonata Repubblica Francese, Garibaldi ottiene un successo militare contro questi distaccamenti prussiani nelle vicinanze di Digione. Garibaldi in realtà è poi uno degli interlocutori, potremmo dire, non centralissimi, ma certamente significativo proprio per questa vittoria militare in un panorama di tante sconfitte, un interlocutore del governo della comune, come vedremo tra breve. Ma la situazione precipita via via che il governo provvisorio si decide a non proseguire la guerra, cosa che invece i patrioti parigini vorrebbero non proseguire la guerra è avviare i cosiddetti preliminari di pace con la Prussia. I preliminari di pace vengono siglati a Versailles il 26 febbraio del 71. Nel frattempo si è tentato di eleggere, nei limiti del possibile, situazione curiosa, la Francia è per larga parte occupata, però si elegge un Parlamento che andrà a collocarsi a Bordeaux. Mentre si svolge questa operazione elettorale alla quale si sottrae la gran parte della popolazione di Parigi che rifiuta questa operazione repubblicana moderata, mentre avviene questo, Parigi insorge e il 16 di marzo nasce il primo comitato centrale della comune che è molto composito, comprende le forze più disparate, forze repubblicane che si autodefinivano giacobine, ispirandosi alla storia della rivoluzione di fine Settecento. Una presenza non trascurabile di socialisti francesi che facevano capo a figure come quella di Proudhon o come quella di Blanchy. qui rientra Louis Blanc che ha una posizione quanto mai moderata, mentre era stato molto più radicale quando era deputato nel 1848, nella rivoluzione del 48. L'equilibrio all'interno di questo comitato centrale è molto precario e dopo alcuni giorni, il 26 di marzo appunto, perciò dicevo le due date di inizio della comune sono quelle, prevale la componente socialista e si avvia l'esperimento di governo della comune. Quanto è presente l'Associazione Internazionale dei lavoratori, facente capo potremmo dire, lato sensu, alla figura, alla linea politica di Marx o dei suoi amici tedeschi che guidano il partito socialista tedesco. Pochissimi, sono pochissimi gli esponenti dell'Associazione Internazionale presenti in questo comitato centrale della comune e hanno un ruolo relativamente modesto. A un certo momento si determina una situazione sul piano militare particolarmente anomala. I prussiani hanno occupato le fortezze a nord-est di Parigi e quindi il governo di Versailles, che vorrebbe eliminare la comune come una anomalia pericolosissima, non è in grado di cingere d'assedio la capitale, perché ci sono i prussiani che occupano il nord-est della città e stanno a guardare, non intervengono né per allontanare le truppe versagliesi, che sono modeste numericamente, né per reprimere la comune. Quindi c'è la possibilità per la comune di avere rifornimenti, di avere contatto con il resto della Francia. Il progetto comunardo era quello di abrogare, per così dire, il centralismo statale. In prospettiva lo Stato come tale e creare invece una grande comunità di comuni autogestiti. Quindi una prospettiva, potremmo dire, avveniristica, molto proiettata in un futuro che noi, un po' real politici, potremmo definire utopistico. Ma questo progetto in realtà fallisce perché non si estende il contagio alle altre aree della Francia, non si estende alle masse contadine, che sono completamente estranee rispetto ai progetti della comune. È tramandato tra i pochi documenti che la comune ha prodotto e che si sono conservati nonostante la repressione, un grande appello ai contadini in cui viene chiarito il concetto, vi stanno ingannando, noi siamo vostri fratelli, abbiamo gli stessi interessi. Ed è un proclama molto interessante, molto articolato, magari ne leggeremo dopo qualche frase. Insomma, l'esperimento non si riesce ad estendere al resto della Francia, rimane una polis, potremmo dire, una città-Stato libertaria, i cui cardini organizzativi sono sconcertanti per l'epoca. Innanzitutto, niente esercito regolare, ma esercito popolare. La Guardia Nazionale è il popolo in armi, che spontaneamente accetta di svolgere questo servizio. Il salario di qualunque funzione è unico, un unico tipo di salario, un'unica misura salariale. Abrogazione delle cosiddette multe sul lavoro, che sono frequentissime, erano frequentissime, orari di lavoro estremamente pesanti e quindi infrazioni, riluttanza a rispettare questi orari massacranti che venivano puniti dal padronato con delle multe, quindi abrogazione delle multe sul lavoro. Confisca e socializzazione delle fabbriche abbandonate, perché gran parte dei proprietari di fabbriche hanno lasciato la città, quindi c'è una sorta di vuoto produttivo e quindi si crea, diciamo, de facto una socializzazione. Istruzione gratuita e laica. Come scrive Marx in quello scritto al quale ho fatto riferimento prima, sono le premesse di una società comunistica, ma sono a rigore dei provvedimenti di carattere elementare, di carattere egualitario, ad un livello accettabile anche da qualunque formazione politica che non sia aderente all'Associazione internazionale. Questo progetto allarma molto più di quanto non sia in sé pericoloso, perché viene considerato, e perciò il governo di Versailles intende reprimerlo, come un antefatto di una possibile estensione negli altri Stati europei di questa esperienza. Perché, in particolare, il Partito Socialista tedesco continua a trasmettere messaggi di solidarietà, condivisione delle scelte che vengono fatte a Parigi. Quindi il rischio di un'estensione internazionale di questo modello, di questo esperimento così limitato, in realtà, sussiste. E come si sblocca la situazione in questa non facile vicenda? Si sblocca da parte del governo di Thiers con una mossa abbastanza pesante, cioè quella di chiedere al governo tedesco il permesso di riavere i prigionieri di guerra, decine di migliaia di prigionieri di guerra che sono stati catturati dopo la disfatta militare e dopo la rinuncia dei generali di Napoleone III a proseguire la guerra, farsi restituire questa massa di prigionieri per creare un esercito consistente di almeno 85.000-100.000 uomini per attaccare Parigi e quindi schiacciare la Comune.